Ma adesso questa è una discussione in tutta interna alla situazione italiana, io rilevo soltanto che di messa si parla in Italia, ho fatto fare una ricerca dal nostro ufficio comunicazione del Parlamento europeo per sapere qual era il dibattito negli altri 27 paesi non c'è dibattito, perché è come avere una Ferrari che va a 300 km all'ora in un centro abitato, è meglio avere l'assicurazione o non averla? Poi sulla polizza naturalmente si può discutere, però è meglio avere l'assicurazione e quell'assicurazione è a garanzia di paesi piccoli e medi che potrebbero subire i contraccolpi di finanza globale incontrollata, che potrebbero entrare in default e avere delle conseguenze anche sui paesi più grandi come l'Italia, alla Germania, alla Francia e quindi è un fondo a protezione. Io penso che sia bene avere l'assicurazione.